Oggi parleremo del movimento del metallo legato ai polmoni e all'intestino grasso. Solitamente questo è un movimento legato alla stagione autunnale, ma per andare a smuovere comunque sia i polmoni che l'intestino attraverso i suoni, questo è l'esercizio indicato. Quindi a prescindere dalla stagionalità si può andare a lavorare anche sul movimento del metallo con il suono associato. Lo eseguo. Posizione base, piedi all'altezza delle spalle, bacino retroverso, mani all'altezza del cantier, occhi socchiusi, lingua sul palato. Vado verso l'alto. Vado verso l'alto. Vado verso l'alto. Questo esercizio, come dicevamo, va a lavorare sul movimento del metallo, quindi va a dare beneficio sia ai polmoni che all'intestino crasso e in questo periodo, visto che siamo tutti a letto ammalati, può aiutare moltissimo. Il suono lavora anche sull'emozione legata alla tristezza, perché comunque questo movimento è legato all'autunno, quindi all'introspezione. Quindi si va a lavorare su più strati, come sempre corpo, mente e spirito. Grazie, ciao.